Fabio Vignati, cercavate la vittoria contro la Villa Cidrese, importante per rilanciarvi in classifica dopo la bella conquista della finale di Coppa Italia, una gara combattutissima, occasioni da ambo le parti, alla fine è successo di tutto perché avete rischiato di vincere l'ultima azione col colpo di testa di Pedoni nella loro ripartenza, non so tu eri a terra, forse non l'hai visto ma ripartiva la Villa Cidrese, è entrato un pallone in campo, un secondo pallone, lanciato dalla panchina, però l'azione è proseguita e Fantasia non ha centrato la porta, è rimasto lo 0 a 0, che commento puoi fare a questa gara? Non è stata una bellissima gara, due squadre che volevano fare punti ma hanno allo stesso tempo paura di perdere, noi venivamo un po' acciaccati dalla battaglia di mercoledì, purtroppo non abbiamo recuperato nessuno degli infortunati, non abbiamo davanti i Roby Piroddi ancora squalificato, eravamo un po' stanchi e contati, ci abbiamo provato, abbiamo avuto occasioni molto importanti, non le abbiamo sfruttate, anche loro hanno avuto le loro, è stata una partita equilibrata e alla fine forse il pareggio è risultato giusto, anche se noi speravamo di portare il punteggio pieno a casa. Fabio, arrivate da un periodo particolare, perché settimana scorsa avete perso malamente a Sant'Iodoro, da lì sono nate poi le dimissioni di Mr. Pira, siete andati in autogestione a fare la gara di Bosa e avete vinto, e poi cosa è successo? È successo che la società ti ha chiesto di prendere in mano la squadra, adesso sei tu l'allenatore del Sant'Iodoro. Sì, mi è stato comunicato questo, io ho accettato l'incarico con entusiasmo perché conosco i ragazzi dall'interno, li vedo da lavorare da agosto e so che siamo una squadra con valori importanti, possiamo uscire da questa situazione difficile trovando quell'entusiasmo che avevamo all'inizio e lavorando, dai momenti difficili si esce solo lavorando. Ora abbiamo la partita di venerdì fondamentale, poi abbiamo 15 giorni per poter preparare al meglio l'ultima di andata, un girone di ritorno importante. Senti, com'è doverti occupare non soltanto dell'attaccante avversario ma di tutti i tuoi compagni perché poi bisogna anche decidere i cambi, qualche spostamento in campo? È una cosa nuova, nel senso che già in campo davo direttive in precedenza, però avere poi la responsabilità di fare i cambi, di mettere in campo la squadra, non è semplice, avrò sempre bisogno di aiuto da parte dei compagni più esperti e di tutto il gruppo si deve mettere a disposizione, devono capire che se faccio una scelta è perché in quel momento io la vedo così, nonostante sia allo stesso tempo un loro compagno di squadra, sono anche colui che ha la responsabilità di portare a casa il risultato. Senti, dovendo avere una rosa disposizione con tutti gli effettivi, continuere a giocare o preferisci stare in panchina? Vediamo, io ho un piccolo problema alla schiena e dovrei stare un po' fermo per recuperare in pieno. Vediamo, ora aspettiamo con ansia il ritorno di Gigi che per noi è un giocatore non fondamentale di più e poi vedremo settimana in settimana chi sta meglio. onestamente valuterò anche la mia condizione fisica il più onestamente possibile e vedremo. E ti piace, chiudiamo tornando indietro appunto alle dimissioni, come l'avete presa, vi ha colto di sorpresa di farlo? Mister, mi dispiace molto, io sono un suo uomo da anni, ho un bellissimo rapporto con lui, dispiace, è anche scomodo subentrare a una persona al quale sei legato da una stima profonda, lui ha deciso, anche l'anno scorso aveva fatto una mossa del genere, la società... intera, perché la Coppa Italia ci ha portato via tante tante energie. Certo, grazie Fabio, buona lupo. Grazie.